Oggi noi vogliamo interessarci del concetto di anima, di corpo e di spirito. Ogni essere umano è composto da queste tre parti, diciamo così. Ma cosa sono esattamente? Perché cercheremo alla luce della parola di Dio di capire, è meglio intendere. Ora, non tanto il corpo, ma l'anima e lo spirito vengono spesso usati come un sinonimo all'interno della cristianità in generale. Ma in realtà sono due cose distinte e separate, che non vanno confuse tra di loro. Ognuna ha la sua pregnanza, le sue caratteristiche e le sue finalità. Iniziamo con la definizione di corpo. Il termine che viene utilizzato è quello che vedete in sovraimpressione. La pronuncia è Soma e nella buona sostanza significa appunto, scusate il gioco di parole, sostanza. Viene usata 142 volte, più o meno, tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. E in Matteo 10, 28, secondo i dizionari più accreditati, assume il significato di strumento dell'anima. Come se il corpo fosse in qualche modo il braccio operante, diciamo così. Ciò che mette ad effetto nella fisicità terrena il comando appunto dell'anima. Andiamo invece proprio al concetto di anima, le definizioni di anima. Troviamo due termini. Uno nel Vecchio Testamento, Nepesh, e uno nel Nuovo Testamento, Sukhe. Entrambi possono essere resi con il concetto di respiro vitale. Nepesh viene utilizzato 780 volte nel Vecchio Testamento, mentre Sukhe 103 volte. E in Matteo 10, 28, il termine utilizzato con anima, assume il significato pregnante di luogo della coscienza, luogo dei sentimenti, luogo delle emozioni. Infine, ma non per ultimo, la definizione di spirito, anche qui abbiamo due termini. Uno nel Vecchio Testamento, Ruach, e uno nel Nuovo Testamento, Neuma. Notiamo che, soprattutto nel Nuovo Testamento, i vocaboli si somigliano. E nella buona sostanza può essere il significato tradotto con l'espressione vento vitale. E in effetti anche qui abbiamo una circostanza che avvicina l'anima e lo spirito. Entrambi hanno delle radici simili, comuni, respiro, vento. Ritornando allo spirito, appunto, esso viene usato 378 volte nel Vecchio Testamento, 383 volte nel Nuovo Testamento. E in diversi versi assume il senso propriamente di respiro divino. Innanzitutto, vediamo un primo particolare. Esse coesistono insieme. Leggiamo prima Tessalonicesi, è la nuova riveduta alla versione, capitolo il quinto, il versetto il 23. Ora, lì Dio della pace vi santifichi, egli stesso, tutti intieri, e sia conservato intiero il vostro spirito e l'anima e il corpo, senza biasimo all'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo. Questo verso, anche perché, come dire, avere una lungimiranza di interpretazione, si presenta in realtà abbastanza schietto e, per quello che ci interessa più specificatamente, identifica incontrovertibilmente che vi è uno spirito, che vi è un'anima e che vi è un corpo all'interno di ogni essere umano. E queste parti si devono conservare interamente, senza biasimo, all'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo. Quindi, dico un verso, già questo verso presuppone, in senso negativo, che ci possa essere anche una separazione fra di essi. E, come vedremo più avanti, la separazione, soprattutto, tra l'anima e il corpo, è ciò che determina quella che viene chiamata morte prima, o la morte fisica, ovvero ancora la morte, come la intendiamo noi, esseri umani, come cessazione delle attività vitali in questa terra. Vediamo ancora più avanti questo stesso verso. Queste componenti possono essere divise. Non sono un tutt'uno, se così possiamo anche dire. Ebrei 4.12, infatti, afferma. Perciò che, la parola di Dio è viva, ed è efficace, e vi è più acuta che qualunque spada, doppio taglio e giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito, e delle giunture e delle midolla, ed è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Da qui, capiamo come, proprio la parola di Dio, è in grado di dividere, di distinguere, quindi, se vogliamo andare più, in un senso più incisivo, l'anima dallo spirito, e con ciò stesso si prevede, quindi, la possibilità della divisione tra l'anima e lo spirito. Ma anche il verso che analizzeremo successivamente confermerà questa prima impressione, dato da Ebrei 4.12. Ecclesiaste 12.9, infatti, afferma Questo verso si inserisce nel caso, appunto, della morte terrena, ribadendo in maniera inconfutabile che, nel momento in cui vi è la morte cosiddetta terrena, il corpo, cioè lo strumento dell'anima, per riprendere ciò che abbiamo detto poc'anzi, cessa la sua esistenza. Va, per come sappiamo noi tutti, in putrefazione, o meglio, la polvere ritornerà alla terra. Ricordiamoci che, secondo il libro della Genesi, l'uomo, la donna, l'essere vivente, è stato formato proprio dal Signore che ha soffiato sull'argilla, facendola diventare, appunto, anima vivente. Ma questo corpo, che è reso vivente, appunto, dal soffio di Dio, una volta che muore, ritornerà alla terra. Nello stesso momento, lo spirito, quella parte che ora più in avanti identificheremo in maniera più approfondita, ritornerà a Dio, che l'ha donato. Notiamo qui che, anche qui, spirito è scritto in lettere minuscole. Il corpo, quindi, vive nella realtà fisica. Proprio l'Ecclesiaste 12,9 ci fa capire che, non appena la vita fisica viene meno, quella stessa polvere o argilla di Genesi 2,7 ritorna alla terra. Il corpo, diciamo così, è la parte mortale di noi esseri umani. Ma, se vi è una parte mortale, vi è anche una parte immortale, che è, appunto, l'anima della quale in Ecclesiaste 12,9 non si parla. Perché, se da un lato il corpo ritorna alla terra e lo spirito ritorna a Dio, che l'ha donato, dall'altro lato vi è l'anima che resta, come dire, chiamiamolo così, in una situazione di attesa, di attesa, appunto, per conoscere la sua situazione di eternità. il suo destino eterno, essendo l'anima squisitamente immortale. Il colpo, quindi, ribadiamo, resta vivo fino a che lo spirito, o il soffio di Dio, è in lui, e rimane, se così ci è concesso di dire, attaccato all'anima nel frattempo che lo spirito c'è. Giacomo 2,26 conferma quello che stiamo dicendo, esprimendosi in questo modo, poiché, come il corpo senza lo spirito è morto, così ancora la fede senza le opere è morta. Come dire, la vitalità, diciamo così, la materialità viva di ogni essere umano è proprio frutto dello spirito di quel soffio di Dio donato dal Signore che ci rende, così, esseri viventi sulla terra. Infatti, se vediamo questo verso di Genesi, capitolo 2, versetto 7, questo verso ci dice, il Signore Dio formò l'uomo dalla terra. Formare l'uomo significa che prima l'uomo non esisteva. Come formò l'uomo? Come rese l'uomo anima vivente? Lo rese soffiando il suo respiro e l'uomo divenne, appunto, anima vivente. Ora, bisogna considerare che già il termine anima, quindi nepesh, significa fondamentalmente un qualcosa che è vivo, eternamente vivo. Quindi, l'aggiunta ulteriore dell'aggettivo vivente in questa espressione di Genesi 2,7 non fa altro che confermare ciò che abbiamo detto prima. Il termine utilizzato in questo caso, esegeticamente parlando, è Kai, e questo Kai indica una vita fisica, un respiro fisico. Quindi, soffiando il respiro di Dio nell'uomo, l'uomo divenne corpo, preso un corpo, come dire, e questo corpo ha la sua vitalità sulla terra. A prescindere dal fatto che l'anima, che è sempre dentro al corpo, ha una sua eternità ipso facto, perché così è stata creata. L'anima, infatti, resta sempre viva. Se leggiamo il verso di Matteo, capitolo 10, versetto 28, ci rendiamo meglio conto di quello che stiamo affermando. Dice, non temiate di coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, ma temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella ghenna. Questo verso è illuminante perché, da un lato, nella prima parte, ci fa capire come vi sono degli agenti, diciamo così, che uccidono il corpo, quindi che possono far, o possono creare, come dire, questa fine della vita terrena, ma nello stesso tempo non hanno nessuna possibilità di uccidere l'anima, la cui vita prescinde dalla vita terrena, dalla vita fisica, essendo l'anima eterna. Consideriamo chi può, con un colpo di pistola, uccidere un altro. Questo altro che, eventualmente, viene ucciso tramite un colpo di pistola, secondo questo verso, non deve tanto temere la sua fine terrena, la quale comunque, prima o poi, avverrà, per cui, al di là del fatto che possiamo augurarci una longevità incredibile per ogni essere umano, alla fine, prima o poi, la morte, la morte fisica del corpo, tocca a tutti. Ma ciononostante c'è qualcosa che continua ad esistere, che è la nostra, chiamiamola in buona fede, coscienza, luogo dei sentimenti, luogo delle emozioni, luogo del nostro essere stesso, la quale sopravviverà alla morte del corpo e che, evidentemente, andrà a impattare con situazioni di pena eterna o gioia eterna. La seconda parte del verso, infatti, più incisivamente, afferma di temere piuttosto colui, cioè Dio, che ha il potere di far perire sia il corpo, diciamo così, che evidentemente muore, ma anche l'anima. Qui si apre una prima, un primo spazio ad un commento. Ed è proprio questa espressione far perire. Se dobbiamo andare al termine esegetico di questo verso, il perire che qui viene indicato, in realtà, e si può anche confrontare Matteo 16, 26, a prima vista, visto il verbo che usa oleotros, potrebbe essere confuso con una distruzione totale, visto che oleotros significa proprio distruzione totale. In realtà, scendendo un po' più a fondo e verificando all'interno di tutti i commentari l'orientamento interpretativo, in effetti, nel verso di Matteo 10, 28, l'uccisione dell'anima è intesa in senso squisitamente metaforico, nel senso che viene resa come perdita da parte dell'anima di qualsiasi capacità redentiva o di qualsiasi meglio, mi correggo, possibilità redentiva, il che sta a significare che, finché il corpo è vivo e finché siamo sotto la grazia, come dice la stessa parola di Dio, oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore, c'è spazio per la grazia, ma dice ancora il libro di Romani, è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, non c'è spazio, a quel punto le cose sono due, dopo che il corpo è ritornato alla terra, come abbiamo visto in Ecclesiaste 12, 9, e lo spirito è ritornato a Dio che l'ha donato, quell'anima deve subire un destino, e quel destino evidentemente è un destino di infamia eterna o di gioia eterna, fermo restando che nella sua costituzione l'anima continuerà ad esistere sempre. Qualcuno che potrebbe interpretare Oleotros nel suo senso letterale e quindi erratamente considerare l'anima come fine, come qualcosa che finisce definitivamente, quindi perde, si dissolve, per dirla così, cade in errore, nel senso che evidentemente questo significherebbe concludere che anche coloro che hanno fatto male nella loro vita alla fine non saranno tormentati, non andranno in nessuna giudizia, nessuna pena, perché questi di qui le anime di costoro si dissolveranno nel nulla, quindi perderanno ogni tipo di pregnanza, ogni tipo di sussistenza, non avranno più dolori in questo senso, quando al contrario sappiamo che nella parola di Dio chiaramente viene espresso un termine diverso, lì sarà il pianto e lì sarà lo stridore dei denti. Concludere che Oleotros viene utilizzato in senso letterale significa anche concludere che soltanto Satana e i suoi sgherri andranno a penare nell'eternità, ma questo è sbagliato, almeno lo riteniamo tale secondo una interpretazione in buona fede di ciò che la parola di Dio ci dice. Nella parabola del ricco Epulone che per noi è in qualche modo significativa sapendo che tutta la parola di Dio è divinamente ispirata ed atta ad arguire e a correggere il riccone non può più ritornare in vita. La sua anima è lì e si trova tormentata e non può cambiare la propria situazione. Non ha come dire una possibilità ma soffre comunque e non solo ha una coscienza una coscienza che ricorda la sua anima è viva nel senso che ricorda dei suoi fratelli ancora in terra dei suoi fratelli che non conoscono questa grazia e lui stesso chiede grazia ad Abramo chiede grazia chiedendo di mandare appunto Lazzaro ad andare ad annunziare ai suoi fratelli la novità perché i suoi fratelli non cadono nel suo stesso errore ma a lui gli viene risposto in maniera schietta loro hanno la parola di Dio quella parola che come abbiamo visto è capace di dividere l'anima dallo spirito è capace di scendere come spada a doppio taglio hanno la parola di Dio e noi abbiamo oggi la parola di Dio per credere che Egli è passiamo adesso all'analisi dello spirito dell'uomo Romani 8 16 ci fa capire in maniera esemplare chiara qual è la parte di questo spirito di questo spirito donato da Dio nei nostri confronti da non confondersi con lo spirito santo di Dio che si riceve come in atti capitolo 2 quando viene a essere costituita la chiesa Romani 8 16 testualmente dice quel medesimo spirito notiamo che viene scritto spirito con la S maiuscola rende testimonianza allo spirito nostro S minuscola che noi siamo i figlioli di Dio questo ci fa capire qual è la parte di lavoro la parte operativa di questo spirito che Dio ci ha donato nell'atto della creazione da un lato rende il corpo vitale anima vente dall'altro dall'altro lato è il ponte nostro di connessione con Dio è quell'aggancio attraverso il quale lo spirito ci dà testimonianza che noi siamo figli di Dio ancora prima corinzi 2 14 afferma l'uomo animale non comprende le cose dello spirito di Dio perché gli sono pazia e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente anche qui vediamo la parte legata allo spirito dell'uomo che è il ponte di connessione con Dio l'uomo ha lo stato animale cioè quell'uomo che pur essendo formato di anima corpo e spirito è in una situazione di non accettazione della grazia in una situazione di disconoscimento della grazia di Dio e delle cose che vengono dallo spirito di Dio per come leggiamo in 1 Corinti 2 14 non è nella possibilità di capire perché quelle cose gli sono pazia quelle cose sono qualcosa che vanno oltre il suo recinto oltre il suo limite gnoseologico di conoscenza non le può conoscere aggiunge anzi 1 Corinti 2 14 perché non le può conoscere queste cose si giudicano spiritualmente allora c'è bisogno di uno spirito c'è bisogno dello spirito dell'uomo perché in qualche modo l'uomo possa comprendere possa avere una valvola di apertura e di connessione nuovamente con Dio noi secondo la parola possiamo essere morti possiamo avere questa parte dello spirito diciamo così morta nel senso di essere assopita Efesini 2 1 ci dice Dio ha vivificato anche voi voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati prendiamo l'esempio di Lidia la commerciante di Porpora quella attraverso la quale poi si fondò la chiesa di Tiatiri la predicazione dell'apostolo Paolo fu quella di predicare la parola quella parola che può dividere l'anima dallo spirito quella parola quindi che è in grado di solleticare diciamo così lo spirito che ci è stato donato di Dio il ponte di connessione con Dio che tocca quella parte sensibile e che comincia a creare quel sentimento in cui il nostro cuore si comincia ad aprire e aprendo questo cuore noi possiamo accettare il Signore e allora lo spirito di Dio può intervenire e lavorare in noi con noi per noi come fece attraverso Paolo nel confronto della Lidia della Chiesa di Teatiri di Teatiri di Teatiri Grazie a tutti.